Ai sensi dell'articolo 135 bis del regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, sulle conclusioni della giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, volte a negare la concessione dell'autorizzazione a procedere nei confronti del senatore Matteo Salvini e nella sua qualità di ministro dell'interno protempore. I senatori favorevoli alla proposta della giunta di non concedere l'autorizzazione a procedere voteranno sì, i senatori contrari alla proposta della giunta voteranno no, i senatori che intendono astenersi si spremeranno di conseguenza. Dichiaro aperta la votazione. Avete votato tutti? Dichiaro chiusa la votazione nominale con scrutinio simultaneo. Sospendo quindi la seduta che riprenderà alle ore 17.30 per il sindacato ispettivo. Chiedo ai senatori segretari di essere cortesemente presenti in aula per raccogliere i voti fino alla ripresa della seduta.